I pazienti del centro di terapia e riabilitazione psichica Villa Letizia di Roma saranno tra i primi in Italia a sperimentare la terapia del colore. Partirà infatti tra pochi mesi il progetto pilota finanziato dalla regione Colorando. Regaliamo un colore a chi ha bisogno di un sorriso presentato dalla consigliera regionale Isabella Rauti e dal consigliere di Roma Capitale Fabrizio Santori. Si tratta di un progetto pilota che vorremmo estendere in altre strutture e anche nelle carceri, ha spiegato la consigliera regionale Isabella Rauti annunciando un'iniziativa legislativa al riguardo.